Questo è il momento più gioioso e più bello della festa di Sant'Antonio. La piazza è piena di bambini, è colorata, sono saliti nel nostro magnifico cielo azzurro più di mille palloncini con i desideri dei nostri bambini e delle nostre bambine. Io ho avuto la fortuna di leggerne alcuni e veramente dovremmo iniziare a imparare dai nostri figli e dalle nostre figlie che ci chiedono la pace, ci chiedono la serenità, ci chiedono il rispetto per l'ambiente. Questo dà il senso del nostro lavoro quotidiano. Varese è una città meravigliosa che lavora per i piccoli e per la serenità delle loro famiglie e mattinate come queste scaldano il cuore.